andiamo a una domanda interessante da parte di rita ciao giuseppe mi chiamo rita e ho bisogno di rivolgerti questa domanda perché satana fautore del male indusse il popolo ebraico a crocifiggere gesù quando sapeva attraverso le profezie bibliche che la sua morte ci avrebbe donato la vita eterna grazie buona domanda questa quindi in una parola lei chiede perché il diavolo a crocifisso gesù sapeva che così tutti possiamo essere salvi e diavolo così furbo e diavolo sempre lì a fare finta di qua e finta di là e come mai questa cosa gli è scappata gli scappano sacco di cose comunque la risposta è no contrariamente certi film moderni cristiani in realtà il diavolo non sapeva affatto della risurrezione di cristo il diavolo non ci capiva niente lui della profezia il diavolo non capisce le profezie non capisce la profezia e come lo sai perché perché lui è ignorante carnale lui non capisce non è non è spirituale per questo dio non ci ha ancora rivelato certe cose profete non vuole dire al diavolo il diavolo è molto carnale e la risurrezione non l'aveva capita ma non è che l'ha capito nessuno però capito infatti dia l'aveva molto ben nascosta nelle profezie l'ha capito dopo che è avvenuto quindi il diavolo è una mente molto pragmatica e meccanica va bene non capisce la bibbia nello spirito e ancora meno le profezie di ora non le capisce capiamo meglio noi di lui però sembra molto intelligente specialmente quando manda sempre le tentazioni giuste per tentarti già sa cosa funziona per tentarti vabbè cosa vuol dire quello che sembra intelligente sì vabbè intelligenza è un intelligenza maligna è un genio del male noi che siamo apprezzati nello spirito santo comprendiamo la parola di dio molto meglio del diavolo cioè vuol dire il diavolo non capisce la bibbia capisce capisce sì però è una maniera carnale capisci una maniera come quelle religioni che non hanno lo spirito santo allora diceva che Gesù è un angelo Gesù è un uomo non capito niente quelle lì capito capito molto ma c'è le cose più importanti non le hanno capito sto pensando come ero io prima di ricevere Gesù nel cuore prima di avere lo spirito santo ho provato a leggere la bibbia solo per come una filosofia però non ho capito niente niente forse è così anche lui sì infatti ci sono dei dei cristiani strampalati e stravolti che dicono che la genesi come il papi è uno di questo è uno dei loro capi dica la genesi è tutto simboli e lui cosa capisce lui capisce solo massoneria neo e ci questo lui capisce bene la bibbia non la capisce perché non riesce a spiegarla lui che lui non è baddezzato lo spirito santo questo papa non può spiegare le parabole non può spiegare la genesi capitolo 1 i sei giorni della creazione non può spiegarli perché mica vuole mica vuole mettersi a litigare con gli scienziati lampadari luminari della scienza che dicono che è stato creato miliardi di anni fa e loro per non litigare con loro dice dio ha usato il big bang dio ha dovuto usare la scimmia ma 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 state zitto che non capisce niente dio ha creato da medeva e come dio può creare l'universo non può creare da medeva come scritto la bibbia no quello è simbolico e chi te l'ha detto a te che sei tu che sei simbolico tu sei qui oggi ma domani sei solo un simbolo non esisti più la bibbia è letterale tranne quando va bene tranne quando diventa simbolica ma come lo sai quando è simbolica in virtù di altre scritture non in base a quello che dice il papa va bene non può interpretare la bibbia dal punto di vista del papa il papa deve stare zitto legge la bibbia accettarlo così com'è va bene e questi imbroglioni i cosiddetti pastori preti che dicono che veniamo dalle scimmie sono imbroglioni sono loro le scimmie va bene loro saranno anche scimmie o per me i loro genitori secondo loro va bene la bibbia è così com'è la bibbia è sempre letterale tranne quando diventa simbolica in virtù di altre scritture non in virtù di quello che dice il signor papa che non capisce nientro di bibbia tranne quando regge un pigliattino che qualcuno un po più in gambe di lui gli ha scritto e per esempio le profezie si capiscono solo attraverso le altre scritture collegando diverse scritture da diverse parti della bibbia quando non capisci una scrittura devi metterti in ginocchio chiedere l'ausilio l'aiuto la mediazione l'intercessione non del di meggiorgia ma dello spirito santo e allora c'è solo un modo solo un modo di interpretare le scritture e avendo chiedendo a dio la rivelazione illuminazione di una chiave scritturale nome di meggiorgio del papa o anche di qualche evangelico la bibbia si interpreta le scritture si interpretano solamente con altre scritture e le rivelazioni personali si tantissime volte la rivelazione personale precede la rivelazione scritturale capisci cosa voglio dire? cioè dio ti rivela a me mi succede tante volte rivela una verità ma se non trovo un riscontro scritturale va bene e allora è un falso profeta un profeta che lui ha rivelazioni che non sono necessariamente bibliche perché lui è un grande profeta non è lui è un grande falso profeta Gesù ha tutto quello che Gesù ha detto era sempre basato sulle scritture sempre d'accordo? era la continuazione del vecchio testamento non era un cambiamento va bene? quindi Gesù ha detto all'inizio all'inizio ha detto Gesù dio li creò maschi e femmina Genese quindi questo papa qui che non è papa ma è un imbroglione e gli altri che lo seguono uguali a lui imbroglioni va bene? che non crede alla Genesi sta dicendo che il Vangelo non crede neanche nel Vangelo cosa crede? lei crede ai libri dei massoni è un massone questo travestito da papa ma è bella questa cosa che il diavolo non capisce la Bibbia perché ci fa capire che lui è molto più inferiore di quello che pensiamo noi e ci dà fiducia a cacciarlo senza paura perché alla fine non sa niente il diavolo è un carnale guarda leggi primo corinzio 2.6 ce l'hai al 16 guarda è tutto spiegato qui qui spiega quanto il diavolo quanta Bibbia capisce il diavolo? vuoi sapere quanta Bibbia capisce il diavolo? capisce più o meno come il papa? niente leggi per cortesia primo corinzio 2.6 a 16 e no mi dispiace questo papa mi dà fastidio perché questo qui imbroglia un sacco di gente vai avanti per cortesia primo corinzio 6.2 a 16 primo corinzio 2.6 a 16 cosa ho detto? primo corinzio 6 ecco allora tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza però non una sapienza di questo mondo né dei dominatori di questo mondo i quali stanno per essere annientati ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria hai capito? super se questi dominatori del mondo chi è il capofila? il diavolo il diavolo se avessero capito la profezia non avrebbero crocifisso Gesù ma siccome sono ignoranti lo dico con rispetto ignorano ed essendo carnali non stanno dicendo non avendo lo Spirito Santo lo possono capire quindi 1 Corinthians 2.8 specifica che il diavolo non ha conosciuto la sapienza di Dio se l'avessero conosciuto non avrebbe crocifisso il Signore della gloria dicono he shot himself in the foot com'è in italiano? si ha dato la zappa sul piede dicono un'amica si ha sparato sul piede in Italia si è tirato la zappa sul piede capito? i farisei hanno detto caspita è risorto poi siamo fregati siamo fritti gloria a Dio magari non l'avessimo neanche crocifisso ah 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 troppo tardi ameno e perché ho sentito dei satanisti nei video dire ma che Dio è che fa morire suo figlio dove è il suo amore ma quello è andato lì a morire per i nostri peccati zucche dure e carnali che non capite del sacrificio allora verso 10 10 sì a noi Dio le ha revelate per mezzo dello spirito perché lo spirito scruta ogni cosa anche le profondità di Dio capito? senza lo spirito santo noi non possiamo capirle che 11 così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio allora il diavolo c'è lo spirito di Dio? no svegliamoci ragazzi che qui ragazze per niente rispondete per cortesia allora il diavolo c'è lo spirito di Dio? no no Andrea no lui non ha il microfono ma insomma la gente dice che siamo una chiesa sveglia ma per cortesia ma vogliamo farci una mossa qui perché se no fratelli smettete di farvi complimenti fratelli smettete di dire che siamo in gamba qualche qui c'è molta strada da fare le sorelle e il fratello Giuseppe tutti quello sì allora il diavolo c'è lo spirito di Dio? no niente allora verso 11 nessuno nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio capito quindi quello non c'è lo spirito di Dio non c'era neanche il Papa e allora non può conoscere queste cose qua ci siamo il nemico non ha lo spirito non può conoscere le cose e le rivelazioni di Dio Paolo continua verso 12 ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate e noi ne parliamo non con parole insegnate della sapienza umana ma insegnate dallo spirito adattando parole spirituali a cose spirituali ma l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente hai capito quindi il diavolo lo legge lo usa contro Dio ma non capisce niente c'ha scritto gli angeli ti porteranno sulle mani gettati dal ponte ma buttati tu dal ponte non hai capito niente mica Dio dice buttati da imbecille che io ti salvo no caro e se tu ti butti fai un buco rimane lì come un palo piantato e Dio è Dio niente Dio non è mica il tuo genio nella bottiglia 15 l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed è lì stesso non giudicato da nessuno 16 ora noi abbiamo la mente di Cristo va bene quindi guarda quindi primo corinzi 2 tutto è spiegato qua perché perché è il diavolo perché non capiva niente non capisce niente di oggi figura di ieri nel momento che lo spirito di Dio è dipartito si è separato da quell'arcangelo ribelle chiamato Lucifero è diventato diavolo è diventato tenebra non capisce più niente e lui adesso è solo un genio del male sta andando diritto all'inferno nessuno lo fermi e che non capisce la cosa spirituale non capisce la cosa spirituale però questo lo limita tanto nei suoi poteri significa che veramente tutto quello che lui ha sono solo bugie sono bugie ma basta vedere nell'impero romano che i cristiani vince l'impero romano il cui capo era il diavolo attraverso gli imperatori e i cristiani lo vinsero con l'amore predicando l'amore ecco capisce ecco perché le crociate quelle cose l'inquisizione erano creazioni di satana perché è con l'amore che si vince il mondo e il diavolo non capiva che con più perseguitava i cristiani con più i cristiani si moltiplicavano l'hanno capito l'hanno capito infatti in Cina non sanno più cosa fare perché con più perseguitano i cristiani e li perseguitano con più si moltiplicano perché perseguitando i cristiani in Cina qual è il messaggio i cinesi sono capre caproni malvagi ingiusti oppressori dittatori cos'è la risposta il capitalismo no è cristianesimo è cristianesimo sono centinaia di milioni i cristiani in Cina adesso centinaia di milioni quando Mao Zedong ha preso potere erano meno di centomila però grazie alle persecuzioni grazie tra virgolette va bene sono diventate centinaia di milioni che erano meno di centomila perché la persecuzione come disse non so è stato Sant'Agostino ha detto i martiri sono il sangue dei martiri è il seme della chiesa qualcuno ha detto va bene e allora per questo è che il dialogo fa finta di essere democratico fa finta di essere socialista fa finta di essere umanitario perché praticamente è un imbroglione se non imbroglia il mondo il mondo lo guida il diavolo attraverso gli imbrogli allora Angela è sufficiente sì come risposta allora significa che il diavolo non conosce il futuro e non sa cosa succederà domani perché lui non ha saputo che Gesù sarebbe risorto e no lui non sa cosa succede oggi e figura cosa succede domani sì ha letto qualcosa così nelle professe non ci capisce niente però una cosa la sa andrà all'inferno questo è chiaro questo è chiaro quello non deve interpretare assolutamente ok allora un'altra domanda possiamo andare al prossimo quindi Grazie a tutti